Come avvocati del coordinamento regionale dei comitati non MUOS apprendiamo con viva preoccupazione della decisione del Tribunale del Riesame di Catania di dissequestrare il MUOS. Lo scrivono in una nota inviata alla stampa i legali Paola Ottaviano, Nicola Giudice e Sebastiano Papandrea. Si tratta di una decisione grave giuridicamente errata. Al riguardo avevamo già sottolineato che il giudizio amministrativo si è occupato esclusivamente dell'intensità del campo elettromagnetico, non essendosi addentrato il CGA nella questione riguardante l'edificazione del MUOS in area protetta e di assoluta inedificabilità, che invece è oggetto del procedimento penale. Peraltro la distinzione fra l'oggetto dei due giudizi è stata ben chiara alla Cassazione che aveva mantenuto il sequestro anche dopo la decisione sul punto da parte del CGA. Scrivono ancora gli avvocati, preoccupa che l'impianto di uso esclusivo delle Forze Armate USA venga messa in funzione proprio ora coinvolgendo il nostro territorio nell'attività bellica già intrapresa dagli Stati Uniti. Leggiamo ancora nel documento. Non può ignorarsi che per il diritto internazionale risponde delle azioni di guerra anche lo Stato che presta il proprio territorio per l'attività bellica svolta da uno Stato straniero. Tutto ciò avverrebbe ancora una volta senza alcun coinvolgimento del Parlamento e in violazione dell'articolo 11 della Costituzione. Ci troviamo quindi in una paradossale condizione di coinvolgimento bellico deciso dal Governo e dal Potere Giudiziario senza alcun coinvolgimento del Parlamento. Speriamo ora che la questione sia rimessa alla Corte di Cassazione e che quest'ultima possa rettificare una decisione le cui ricadute sarebbero gravissime. Concludono gli avvocati Ottaviano, Giudice e Papa Andrea.